Una Chiesa per l'umanità che vive sulla terra, ma ha cittadinanza nel cielo. I Vescovi italiani citano la lettera di Ogneto per ribadire la vicinanza della Chiesa alle preoccupazioni e alle sofferenze di tutta la popolazione che sta vivendo una situazione gravissima sia sul piano sanitario che su quello economico. Vicinanza con la preghiera, con la carità, con uno sguardo di fiducia e di speranza, condividendo anche le limitazioni a cui ogni cittadino è sottoposto perché un'eventuale imprudenza nell'osservare le misure sanitarie potrebbe danneggiare altre persone. Un senso di responsabilità, scrive la Presidenza della CEI, di cui può essere espressione anche la decisione di chiudere le Chiese. E questo non perché venga imposto dallo Stato, si precisa, ma per un senso di appartenenza alla famiglia umana, esposta ad un virus di cui ancora non è conosciuta la natura né la propagazione. I sacerdoti, si ricorda, celebrano quotidianamente per il popolo e nel rispetto delle norme sanitarie si fanno prossimi a tutti, specialmente ai più bisognosi. Dai monasteri e dalle comunità religiose si eleva un'orazione continua per il Paese e a sostenere la fede del popolo di Dio contribuiscono anche le TV, le radio, le piattaforme digitali cattoliche, anche semmai potranno sostituire la ricchezza dell'incontro personale. E si potrà condividere la preghiera in diretta anche per la prossima iniziativa promossa dalla Chiesa italiana, la recita del Rosario in casa, tutti uniti simbolicamente alla stessa ora, le 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe. Si mediteranno i misteri della luce e alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa, intresi di fiducia nel mistero pasquale. Grazie. Grazie.